segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te un sincero democratico lo di quel messaggio che ho fatto vedere nel servizio di tagadà me ne arrivano continuamente e non c'entra la meloni della quale non ho mai detto che sia fascista lei ma c'è uno sdoganamento in giro di parole di offese di ingiurie però in quel servizio io dissi anche un'altra cosa mi è stato chiesto qual era la più grande soddisfazione la più grande soddisfazione che liliana segre presiderà la seduta del senato quando il senato si riunirà la prima riunione del senato grazie ad manuele fiano è stato un piacere ci ritroviamo presto grazie ad alessandro cattaneo qualche minuto di pubblicità e torniamo